E questi giovani ancora, a uno a uno, vanno inseguendo l'arrivo e questo vecchissimo mondo a nessuno rimane in eterno, mandarono e bravano, l'altro bravano e avranno. Dare ascolto ai loro pensieri, sentimenti, fantasie è stato il percorso più efficace per riscoprire i nostri pensieri, dare nuova forza e calore ai nostri sentimenti e alle nostre fantasie. Noi, consapevoli dei nostri limiti, abbiamo potuto solo rispondere con un gesto di amicizia e di solidarietà alle troppe e tante necessità delle loro esistenze. Quanto poi abbiamo noi ricevuto da questi fratelli, resta nel segreto dei nostri cuori. Grazie. 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 Grazie.